Continua a Teramo la battaglia a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori delle pulizie delle scuole che andrà avanti promette la Cigelle provinciale finché non arriveranno risposte da Roma. A combattere questa guerra sui propri diritti sono i 290 collaboratori scolastici teramani che da più di 20 anni puliscono le scuole e sorvegliano i bambini e che finalmente dopo un susseguirsi di cooperative ora potrebbero trovare la loro giusta collocazione attraverso l'assunzione al MIUR. Ma questa attesa internalizzazione porterebbe con sé discriminazioni profonde in un territorio come quello della provincia di Teramo che non può permettersi altri drammi. 20 persone potrebbero essere escluse e per 126 si aprirebbero le porte di un part-time a 18 ore. Dal 1 marzo 2020 finalmente ci sarà questa internalizzazione, tanto attesa e di fatto una cosa che spetta loro di diritto, quindi finalmente saranno assunte direttamente dal MIUR. Il problema è che questa internalizzazione così come la stanno facendo comporterà discriminazioni e disuguaglianze perché metà, per esempio rispetto alla provincia di Teramo, metà delle 241 persone attualmente impegnate nel servizio subiranno un contratto part-time a 18 ore. Il che significa 500 euro in meno circa perché abbiamo fatto questa proiezione in busta paga. È per una donna che ha tarato una donna, una famiglia in realtà, perché poi maggiormente noi queste donne le conosciamo una per una, per cui sappiamo quali sono le situazioni. Per lo più sono donne monoreddito, quindi le uniche a portare uno stipendio a casa. Le lavoratrici e i lavoratori delle pulizie delle scuole di Teramo chiedono alla politica locale di intervenire e protestare con il Ministero, facendo presente che in altre regioni italiane non si è proceduto nella stessa maniera. Sono convinto che ragionando, facendoli ragionare, le quote che sono maggioritarie in altre regioni vengono rimesse sulla nostra regione Abruzzo in modo che possano salvare quei 40-50 persone in esubero. Non ci vuole tanto, ci vuole che quando si produce una legge bisogna capire quale effetto sui territori produca. Io ringrazio l'unità del sindacato perché oggi dobbiamo tornare a stare insieme sui tavoli per poter risolvere i problemi dei territori.